A Cotronei un pomeriggio di sport dedicato alla memoria di Salvatore Baffa, scomparso nel 2013, al quale è stato dedicato il primo memorial. E non a caso, proprio l'impianto sportivo, dove si è svolta un amichevole tra la locale formazione e il crotone di Modesto, è stato dedicato alla sua memoria. È stata soprattutto l'occasione per ricordare una grande figura di imprenditore di sportivo, ma anche quella per cementare ancora di più il connubio che c'è tra Cotronei e la società del Presidente Avrenna. Mio padre ha dato molto con il calcio, perché credeva in questo sogno, che può essere anche un sogno per i giovani, per un futuro, una realizzazione. Oltre alle strutture sanitarie che ha realizzato, ha dato tantissimi posti di lavoro, tante occasioni anche ai giovani che i pazienti che si ricordano nelle nostre cliniche, dando anche un grosso servizio. Cotronei e Caccuri, ovvero due comunità per una sola squadra, che quest'anno giocherà in eccellenza. Unire le forze per aspirare ad un traguardo prestigioso, così come spiega uno dei due presidenti, Maurizio Fabiano. Quest'anno abbiamo messo le basi per qualcosa di buono. Noi cerchiamo di fare bene. Abbiamo l'ambizione in due o tre anni di portare questa squadra in Serie D. Risultato scontato in favore del Crotone, con Marici in evidenza con i suoi quattro gol, poi le reti risale la doppietta di Schirò. In campo anche gli ultimi arrivati è Stevez, Donzà e Odei, oltre a già citato Schirò. Siamo stati veramente molto bene oggi perché ci hanno invitato. È una grande accoglienza perché c'era pure tanta gente. È stata una partita comunque che ci è servito anche per tanti ragazzi che sono arrivati da poco, quindi siamo soddisfatti. Al termine la premiazione con la presenza del sindaco di Cotronei, Nicola Belcastro.